Gentili telespettatori buona giornata. Costa sottosegretario alla salute del governo Draghi dice proprio oggi che dopo il 31 di marzo potrebbe essere eliminato il Green Pass. Ormai un qualcosa di vecchio, obsoleto, fuori dal tempo, uno strumento politico atto per far vaccinare il più possibile chi ancora non si era vaccinato. Però come dicono in molti chi si è vaccinato si è vaccinato, chi dopo due anni di pandemia non si è ancora vaccinato probabilmente non lo farà. Pertanto il suo obiettivo, la missione di questo strumento politico alla fine è esaurito, si è esaurito. Ma il governo sembra quasi che voglia tenere ancora in pugno le persone, sembra quasi un qualcosa di diverso. Ma il sottosegretario della salute Costa dice che siamo in una fase positiva, ma sono circa 1,2 milioni gli over 50 non ancora vaccinati. Il governo che cosa ha fatto per costringere queste persone a vaccinarsi? Gli ha messo l'obbligo vaccinale con una multa, una tantum, che abbiamo visto che non sono mai partite queste multe perché non hanno l'elenco dei non vaccinati. Non sono solo i non vaccinati, attenzione, le multe vanno anche a chi ha una dose e non ha fatto la seconda, ha fatto passare troppo tempo, da chi ha due dosi e non ha fatto la terza e ha fatto passare troppo tempo e da chi appunto non l'ha mai fatto. Pertanto oggi il governo ha provato con l'obbligatorietà la multa che poi non sta arrivando e probabilmente non arriverà mai e poi prova con dice beh tu hai 50 anni, avrai una famiglia, se perdi il lavoro dopo quell'età lì non lo trovi più, quindi io ti impedisco di andare a lavorare senza la vaccinazione. Ma rimangono comunque ancora molte persone che nonostante tutto hanno deciso di non vaccinarsi. Il, come si dice, non è il governatore, come cacchio si chiama quello che c'è in Campania, De Luca. Il presidente della regione Campania dice che secondo lui se hai più di 50 anni e preferisci non avere lo stipendio piuttosto che vaccinarti significa che non hai bisogno di lavorare. A questo punto largo ai giovani che assumano dei giovani in loro sostituzione. Però voi sapete che De Luca fa sempre parlare di sé, ha delle uscite a volte diciamo non molto sul politicamente corretto. Lui quello che deve dire lo dice senza pensare se c'è qualcuno che si offende o no, non gliene frega niente. Pertanto il governo ha messo in atto questa struttura del Green Pass che serve a praticamente quasi obbligare le persone. Quasi perché l'obbligo c'è ma non ci sarà nessuno che viene a casa a farti il vaccino. Se tu non ti vaccini poi c'è comunque una sanzione amministrativa. Quell'1,2 milioni di over 50 non ancora vaccinati, se alla data del 16 febbraio ancora non l'hanno fatti, che già hanno ufficialmente la sospensione dal lavoro è dura per chi ha da 50 anni in su, famiglia, mutuo, casa, riuscire ad arrivare al 15 di giugno. Poi parliamoci chiaro, il governo dice non vi possono licenziare, siete solo sospesi. Nella pubblica amministrazione il discorso può anche andare bene. Ma nel privato tu a un certo punto non vai più al lavoro perché non hai il vaccino, ti sospendono dallo stipendio, poi quando torni ti accolgono a bracciapea. Ah sei tornato, che bello! Eh sì, chi lavora in un'azienda privata sa perfettamente a che cosa mi sto riferendo. Poi te la fanno pagare, non per il vaccino perché non possono, però in un altro modo cercheranno di buttarti fuori. Questo è quello che potrebbe succedere a molti. Ma Costa dice che dopo il 31 di marzo il Green Pass potrebbe essere eliminato. Ospite a Radio Anch'io su Rai Radio 1 è la giornata in cui entra proprio in vigore l'obbligo di Super Green Pass sul lavoro per gli over 50 nel settore pubblico e privato. Lui 500 mila lavoratori ha spiegato. Costa quindi di 1,2 milioni meno della metà sono lavoratori. Gli altri magari sono persone che fanno dell'altro, non lavorano o forse lavorano in nero alcuni, chi lo sa. Bene, e dice fortunatamente i dati della pandemia ci dicono che siamo in una fase positiva, ma il virus c'è ancora e dobbiamo fare un ultimo sforzo per portare il Paese fuori da questa. Situazione e l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50 va in questa direzione. E sulla possibilità che si elimini il Green Pass dopo il 31 di marzo, ovvero con la fine dello stato di emergenza, ha aggiunto, credo che sia uno scenario possibile, dobbiamo completare la somministrazione della terza dose, ma con questo ritmo per marzo potremmo aver finito e così si potrà aprire uno scenario con meno restrittive. Il governo che cosa vuole fare? Il governo non dice adesso, ah sì sì lo tolgo il 31 di marzo perché allora chi non si è vaccinato dice, tengo duro, perdo lo stipendio di un mese e mezzo, vado avanti con i risparmi e poi riprendo il lavoro, finito lì. Il governo dice lo faccio all'improvviso, al 31 di marzo faccio un consiglio dei ministri, abolisco il Green Pass ma non lo dico prima perché se lo dico prima questi non mi si vaccinano, invece lo dico affatto compiuto, domani non c'è più il Green Pass, mi sono vaccinato ieri per non perdere lo stipendio. Questo è quello che potrebbe fare il governo, zitto zitto. Zitto zitto o che lo dica adesso l'importante è che lo faccia, l'importante è che il 31 di marzo vada a cancellare questa cosa che io sono assolutamente contro perché adesso non ci sono più i presupposti per andare avanti con questo strumento politico che è anche un po' sanitario perché alla fine sarà uno strumento politico ma serve per far vaccinare le persone, quindi di che stiamo parlando? Di formaggi? Stiamo parlando di sanità, quindi politico o non politico è quello lì, siamo capiti. Pertanto speriamo che tra poco possiamo lasciarci alle spalle questa pandemia. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata.